L'ultima giuda della porta. Controlliamo il testamento e iniziamo. È cambiato la playlist, siamo tutti iniziati alla stava. Iniziamo con il nostro. Ecco, un momento di riconoscimento. Ok. Forse è un'iniziazione. Vai con un riscamento. No, no. Sì, però... Sì, però... Sì, sicuramente sono tutti i sette. Grazie. Sì, sicuramente è tutto. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , , a tutti. , a tutti. , , , , , , , , ,